Questo è per voi Signore e signore Il mio fio, il mio fio Il mio fio VAMOOOOOOS Faccio del fio VAMOOOOOOS Ssssss No AAAAAAAA Primo dettativo VAMO MADRE Cos'è sti movimenti? VAMO MADRE VAMO MADRE VAMO MADRE VAMO MADRE VAMO MADRE I pilota E' RICCESSI VAMO MADRE E' RICCUSS VAMO MADRE VAMO MADRE VAMO MADRE VAMO MADRE DICCRISCINA SOOO c'è il video perché c'è anche il telefono al contrario lo faccio per voi così ti voglio è tutto fake ha fatto i tagli è tutto fake abbiamo anche il prossimo sarà sul semacoro poi se va nella strada io non c'ho tappato bene lo faccio per voi bene si si proprio lì volevamo oddio ce l'ho fatta grandi grandissimi come vi chiamate bella bella